Beh, direi cittadini vaccinatevi e autorità sanitarie dateci una mano a vaccinare chi magari può essere in difficoltà per farlo. Vaccinatevi, fa un appello ai nostri microfoni il sindaco di Sassetta, antico borgo medievale, tra le province di Livorno, Pise e Grosseto, che vede solo il 23% dei residenti vaccinati. Quindi molto molto al di sotto della media toscana e solo il 37% sempre di Sassetani ha avuto una sola dose. E girando per il paese notiamo che molte persone non sono vaccinate. Ma senta perché a me non vince tanto questo vaccino, c'è tante controindicazioni, sono già vecchia, morirò però insomma non vorrei morire da un vaccino. Vabbè, magari muore di covid, ma non glielo c'è nel senso, siamo ironici. Eh sì, diamine, mi dispiacerebbe morire di vaccino. Lei è vaccinato? No, io ho già avuto due trombosi, quindi preferisco al momento evitare. Ecco. Tutto bene. Però magari, non lo so, il Pfizer? Mi sto informando però al momento sto evitando. Perché in paese non ci si vaccina? Io sono vaccinata. Io no, io sto bene, perché devo vaccinarmi? Però in senso può prendere il covid. Ma covid e il 95% sono asintomatici, se lo prendo vuol dire che lo prendo. Ovviamente non si può diasimare né accusare nessuno perché è una libera scelta. E qua questo fine settimana doveva esserci un evento. Cantine aperte con la musica, ma il sindaco l'ho annullato per dare una sorta di scossa. L'evento l'avevo organizzato e le basi c'erano. Solo che poi ho ricevuto il bollettino atno della vaccinazione e mi sono fermato. Mi sono fermato proprio perché portare 500 persone in un paese vergine può mettere a rischio queste persone. Una comunità, dice il sindaco, che è stata bravissima nella prima fase dell'emergenza. Il comune infatti per moltissimi mesi anche adesso è covid free e dall'inizio della pandemia. Solo otto residenti sono rimasti positivi. Questo potrebbe aver fatto calare l'attenzione sui vaccini. Ma il sindaco è di un'altra idea. La informazione sulla vaccinazione non ha raggiunto perfettamente lo scopo da tutte le parti. Nei paesi piccolini non è facilissimo raggiungere quello che si vuole dal punto di vista dell'informazione. Ma un po' tutti dicono, per favore, non definiteci no-vax. Penso che finché l'obbligatorietà del vaccino non c'è, ognuno fa come gli pare. Quindi lei si ritiene no-vax? No, mi ritengo free-vax. Ciao.